Edizione straordinaria per una notizia sensazionale. Sempre più automobilisti scelgono il metano, il risparmio è garantito, tanti chilometri con pochi euro. Scegli anche tu il metano, scegli i migliori carburanti ed avrai un pieno di vantaggi. Un'area di servizio completa con officina, elettrauto e specializzata per l'installazione di impianti GPL e metano, autolovaggio self-service e servito, bar, tappacchi, pizzeria e rosticceria. Ma soprattutto prezzi imbattibili su tutti i carburanti. Fai il pieno di vantaggi con Migliore Carburanti, in via Tanagro, Atena Lucana Scalo e in via Mure Russe a Sala Consilina.